Una valutazione se possibile su quello che è accaduto in Marmolada? È accaduto un evento veramente drammatico, veramente tremendo, probabilmente un forte legame col cambiamento climatico visto che abbiamo avuto temperature molto molto elevate sulla vetta della montagna per giorni e per settimane prima di questo evento quindi è molto probabile che l'acqua di fusione abbia giocato un ruolo veramente molto importante nell'innescare questo collasso di quella che non è un seracco ma si tratta proprio di una parte del ghiacciaio che non dava alcun segno premonitore di cedimento quindi un evento del tutto inatteso e del tutto imprevedibile. Le temperature stanno aumentando da decenni, negli ultimi anni questa accelerazione è diventata sempre più evidente. Noi stiamo avvenendo cose che veramente non vediamo nelle statistiche del passato sia per l'intensità delle ondate di calore sia per la lunghezza dei periodi di sicilità oppure anche per l'intensità delle precipitazioni. Noi abbiamo vissuto l'estate del 2003 come un'estate terrificante ed era considerato un'estate totalmente irripetibile dal punto di vista statistico e la realtà è che negli ultimi anni ci stiamo riavvicinando sempre di più a una distanza molto molto breve. Non è giusto rassegnarsi ma ci deve dare uno spunto per cercare di impegnarci per stabilizzare il clima in futuro. Stabilizzare il clima è possibile? Se noi riusciremo a stabilizzare il clima a più due gradi rispetto all'epoca preindustriale quindi quello che era l'accordo di Parigi è possibile salvare anche un 30-35% del ghiaccio che abbiamo ancora in Lombardia proprio perché per la fine del secolo potremo stabilizzare le temperature, i ghiacciai arretreranno ma a un certo punto i ghiacciai alle quote più alte riusciranno a conservarsi. Se non riusciremo a stabilizzare il clima le temperature continueranno ad aumentare i ghiacciai della Lombardia scompariranno in modo quasi completo ma così come tutti gli altri ghiacciai delle Alpi. C'è da dire anche che intervenendo adesso che è una cosa indispensabile da fare non solo per i ghiacciai ma proprio per tutto quello che sta attorno ad i ghiacciai noi compresi una parte del ghiaccio che abbiamo nelle Alpi comunque è destinato a scomparire proprio perché già oggi le temperature sono troppo elevate per la permanenza di questi corpi di ghiaccio che sono proprio fuori contesto completamente già con il clima di oggi. Questa stagione appunto partita con la siccità da dicembre in poi è una stagione veramente eccezionale perché unisce una siccità invernale ad un periodo di maggio che è stato il più caldo da quando si rilevano i dati. Si sperava in un recupero invece del recupero abbiamo avuto temperature elevatissime che hanno fatto fondere quella poca neve rimasta dall'inverno e quindi questa doppia eccezionalità hanno provocato un deficit che arriva fino al 76% della neve sui ghiacciai. Siamo i primi di luglio e i ghiacciai sono nelle condizioni delle annate peggiori in settembre quindi sono in condizioni di fine stagione. Quindi da qui in avanti dobbiamo capire cosa succederà perché se anche solo le temperature dovessero restare diciamo sulla falsa riga del mese di giugno andremo probabilmente incontro alla stagione all'estate più drammatica dei ghiacciai da quando si rilevano i dati con delle fortissime perdite di spessore e anche scomparse dei ghiacciai più piccoli.